Pierangelo Bertoli, uno dei più amati cantautori italiani, autore di bellissimi motivi. Io ho avuto un'infanzia decisamente felice, magari perché sono stato fortunato, sono cresciuto in un cortile, eravamo 7-8 bambini, più o meno tutti della stessa età, non c'era nessuna discriminante, a parte che magari non potevo giocare al football come gli altri, io sono un appassionato, però non mi sono mai sentito molto handicapato nei confronti loro, forse anche perché ero il più grosso, quindi quasi tutte le cose che facevamo ero in grado di farne, a parte forse alcune. Voglio dire, io mi arrampicavo sugli alberi, per cui non ho avuto un'infanzia infelice. Come ha scoperto la sua vocazione per la musica? Molto avanti con gli anni, che poi più che per la musica è per dire delle cose, cioè io ho imparato a sonare la chitarra e a fare anche dei motivi per cantarci sopra delle parole, mi piace cantare e mi piace raccontare, quindi ho scritto le canzoni, penso per quello, e poi perché non mi piacevano le canzoni che in genere si sentono in giro, insomma, non dicono mai niente. Chi l'ha aiutato a superare gli inevitabili momenti di sconforto? Ma grandi momenti di sconforto non ne ho avuti, però quei pochi mia madre, indubbiamente mia madre, la fiducia che ha sempre avuto in me, e poi gli amici anche. Una volta Reonora Roosevelt mi raccontò di suo marito, che era stato colpito dopo i 20 anni dalla poliomielite, e mi disse che il giorno in cui andò eletto presidente degli Stati Uniti a fare il discorso al congresso, Franklin Delano Roosevelt sembrava che volasse. Nella sua vita c'è mai stata questa sensazione di essere al di sopra delle cose? Quando sono su un palcoscenico, quando riesco ad estranearmi, io sono abbastanza una persona, voglio dire, che ha attaccato alle cose fisiche, alle cose reali, però quando sono sul palco e che canto, sì, lì volo, certamente. Se pensa ai momenti tristi ed esaltanti, che cosa ritrova nella sua memoria? Io ho la tendenza a vedere le cose come positive e negative, non come tristi o allegre. E tendo a fare diventare positivo un po' tutto, a farlo diventare esperienza. Quindi trovo un tunnel lunghissimo di esperienza, di cose che ho imparato o direttamente, o perché le ho sentite o viste da altri, viste vivere da altri. Per me la vita è interessante, curiosa, continuamente, ma per me la vita sono le persone, soprattutto sono gli uomini. Le persone hanno anche la malinconia, lei non l'ha mai? Sì, certo, tutti hanno la malinconia, anche io ce l'ho. Però secondo me fa parte della vita, cioè è una cosa molto normale. Lei come la vince? Cantando? No, non c'è un modo preciso, tanti modi. Le malinconie ce ne sono di tante razze, quindi a volte cantando, a volte io sono uno che si arrabbia, si incazza a volte. E' anche così. Oppure attraverso, questo negli ultimi anni, attraverso mia moglie, i miei figli, tante cose, insomma, sono tante le cose. Credo che semplicemente guardando quello che c'ho davanti, quello che c'ho di dietro, quello che c'ho da vivere ancora. Ecco, come è stata la sua storia d'amore, che mi pare molto bella. È stata molto rapida. Ho conosciuto mia moglie ad un concerto. Lei è venuta, mi ha chiesto, veramente mi ha preso, c'era un'agendina, mi ha preso l'agendina da sotto e ha preso la data più prossima alla sua città, che è Reggio Emilia, ed era un mese dopo. E poi al concerto successivo è venuta di nuovo, senza, praticamente non abbiamo parlato, e alla fine questo secondo concerto è arrivata lì e mi ha invitato a casa sua. Per la sera dopo, mi ha chiesto, vieni a cena a casa mia domani sera. E io gli ho detto di sì, e due mesi dopo vivevamo insieme. Nel suo mondo, che è quello del spettacolo, lei incontra delle particolari difficoltà. particolari, no. No, io credo che la maggior parte di queste difficoltà, le difficoltà che si credono agli handicapati, sono più nella testa e nella cultura che nella realtà. Ci sono delle difficoltà aggettive, voglio dire, salire su un palco alto due metri è una difficoltà, ma si supera, ci vogliono due persone, gli danno una mano e vai su, insomma, non è così complicato. Le difficoltà stanno nella cultura italiana, credo, la cultura cattolica principalmente, questa è una mia opinione, non voglio vendere quello che non ho, ma il pietismo, in questo atteggiamento di... non lo so, credo che tutti abbiamo degli handicap nei confronti di qualcosa. Esatto, anche di quelli che non si vedono. Esatto. Forse sono i più temibili. Ed è la stessa cosa, voglio dire, rispetto a altre cose, sarò io a aiutare te, molto semplicemente, questo dovrebbe essere uno scambio tra persone, molto sereno e molto paritario. Ora, vabbè, io ho sempre detto che l'immagine te lo metto fuori dalla chiesa, che piglia le centurie, ti fa guadagnare dieci anni di purgatorio, è abbastanza distorta nella cultura italiana. Un mille, un anno di paradiso. Esatto.